bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video buonasera intanto a tutti e speriamo che ci vada alla grande quindi i primi otto praticamente passano in poche parole cioè i primi due team di ogni girone si fa gruppo b8 giocatori in tutto sono quattro i temi che passano esatto signori si portano ok parto per primo volo poi ti seguo ti seguo ci va ragazzi andate io sono secondo siamo tra i primi noi e che cazzo ok non mi salta non mi salta non mi salta quanti ne abbiamo davanti se uno ne abbiamo poi ne vedo uno davanti parma dalla domanda seguendo uno che c'ho davanti chiusa se riesce mi segua vai 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 c'è dietro e festo c'è dietro a sinistra vado proprio sinistra tri dritto ora a cannona a cannona a cannona vai 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 non ti può raggiungere festo vai 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 perfetto 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 ok perfetto manca ciccio manca no guys si è uscita ah manca ciccio si è bloccato si è bloccato eh si è pagato ciccio si è pagato no va bene non è giusto ok secondi scusi sta perché c'ho ciccio qua davanti c'ho ah ok aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un po' di ignoranza in chat in lobby andiamo 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 noi stiamo andando così ah poi ci porta il capitolo seguiamo le festo seguiamo le festo signori si parte vediamo 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 tre round anche qua più monete prendiamo più punti abbiamo eh no non ci posso credere come in due guys ma è un è un disastro questa mappa fuga 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 campania sono un altro team k4 deve saltare deve saltare proprio all'ultima il rincorso da fermo non è in ricorso sempre il ricorso ok finita finita no questa sfida finita ok non guardare quella sonezza bastarda che del cristo dio sì 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 il mio dp bastardo ci sono deve partire ancora prima che tocchi terra devo saltare dove devi saltare l'avesso ha fatto ok uguale questo ok via 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 vado sì 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 siamo ultimi secondi secondi ma come secondi siamo secondi andex l'erore easy ok non è vero easy secondi secondi ancora dai ragazzi siamo sempre lì e di 150 punti sopra ragazzi che stanno giocando con me che sono i migliori in italia insieme ad altri ad essere arrivati qui a obama e lei non vi senti comunque sembra un bianco marcio il mio non riesco a farlo uguale no ma come l'ulter aspetta 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 che siamo avanti così fino dopo domani 4 minchioni no tempo bloccato ho un problema sono bagato ok sono uscito sono uscito da lo spagnolo bug figlio di puttana cerchio ma ma che non so cosa è successo 50 51 poi dai che sto chiudendo chiuso è ancora dovuto studiando pure c'è un prato da te in assoluto ma sono i nuovi questi sono del prima del secondo round c'è da questi due questi punti che abbiamo noi 2476 esatto è l'assoluto quindi del primo e del secondo di questa mappa il primo e secondo round se stiamo facendo il campionato i quarti di finale del campionato italiano della creativa come vedete nella lobby ci sono c'è festo c'è ciccio gamer c'è mi chiamo ma ce le ha ce le ha tutte ciccio porca miseria tutti ce le ha o è messo quasi come lei a livello di rica 3 ma dietro le cosa vuole dire questa riunione questa riunione io io penso che potremmo vincere seriamente perfetto penso che si possa fare io lo so non sono ancora caduto una volta eh ogni volta che cade di lava punti me lo ricordo stavolta tenete ragazzi tenete che siamo ancora secondi dai tutti qua sul lato tutti qua sul lato a sparare vai io sparo dritto non muovetevi da qui eh guardate che arrivano da sinistra con le granate con le granate colorare il pavimento quindi ci saranno i colori e noi dovremmo prendere i pavimenti con il nostro colore quindi sì questo ok perfetto ok dai ragazzi dai ragazzi dobbiamo colorare solo e abbiamo tutto perfetto che giallo io sono già colore giallo siamo e stiamo perdendo terreno no terzi no vai guys vai guys 30 secondi che siamo in chiusura siamo in chiusura poi forza dovremmo essere dentro la ragazzina però in teoria dovremmo essere dentro comunque io volevo io volevo ringraziare per questa esperienza perché è stata secondo me veramente divertente non poteva gustare tutte così tutte così dobbiamo farlo le mappe ma secondo ma io so ciccio guarda perché io ci sto eh ma noi eravamo buggati ho finito il primo turno con un minuto e mezzo in anticipo di tutti ti ho visto un attimo incastrato nelle botti allo start nel senso in seconda posizione abbiamo il team Xuser con 72 punti quindi questi due sono qualificati alle semifinali con gratulazioni grazie grazie let's go ciao